E ciao a tutti ragazzi, io sono Eletro16 e oggi siamo nel Minecraft SCP Yeah, che bello, allora intanto andiamo a salutare tutte le persone, andiamo a salutare i draghi Lumaca e Tickle Monster Eccolo, eccolo, eccolo Tickle, Tickle, eccolo qua, eccolo qua, guarda come salta, guarda, 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 monello Eccolo qua, e assieme anche agli altri sei Dragolumac, perché sono sei, sì sono sei, come le specie, perché, vabbè E niente ragazzi, oggi siamo nella Minecraft SCP, nello scorso episodio, abbiamo visto l'SCP 309, cioè il peluche E avevamo questo problemino con i tubi Qua ci sono questi tubi di SCP-015 che non sono in giro per il signor mondo, cioè sono in casa nostra E si espandono, cioè i tubi non si sono espansi, però stanno in giro Come ho già detto ragazzi, questo SCP-015, la capacità, ne avevo anche parlato Di espandersi quando non viene guardato, quindi noi non lo stiamo guardando Quando noi non lo guardiamo Questo cresce Comunque l'SCP di oggi è quello accanto alla cella del coso tizio del 309 Devo ancora ritrovare quell'altra cella che vedremo forse la prossima volta Perché non mi ricordo più dove era quell'altra cella, però ricordo che era da queste parti C'è un po' un giretto al volo Magari la troviamo Cioè non credo Però se la troviamo Almeno sappiamo già dove si trova Ah mi sa, ah ecco, eccola vabbè Ragazzi questa la vedremo la prossima volta Adesso direi di correre dall'SCP di oggi Che ragazzi, nel prossimo episodio dobbiamo vedere Dobbiamo anche vedere la palla, il 018 Perché è da molto che non usiamo il rispa di carta Che è abbastanza Non so, però forse lo vediamo la prossima volta Se volete Comunque la cella di oggi è proprio qua Vicino Quindi E' proprio qua Dovrebbe essere qua Ok ragazzi, l'ho trovata Eccola qua Cellava perché l'avevamo già visto Nella volta scorsa E niente Qua Qua c'era C'è Nederak Mi sa che qua c'era Ragazzi abbiamo fatto un macello Mi sa Qua mi sa che c'era il fuoco Vabbè C'è Nederak Non so che cosa voglio dire Però comunque l'ingresso alla cella è lontanissimo E' proprio Cioè qua c'è tutto un corridoio Che ci manda Qua Qua Che sarebbe l'ingresso Della cella Ok è safe Ed è la Questa è la cella degli eyeball Vabbè E SCP di oggi è Il Ah Ieri 309 Oggi 310 Ok Va bene Allora SCP 310 Io Lo conosco Ovviamente Si chiama Candela Eterna Avete capito tutti quanti di cosa mi sto riferendo In pratica è una candela E praticamente Si può rigenerare Cioè non si può distruggere Perché Se voi la mettete nell'acqua La tagliate Oppure provate a distruggerla Lei Ritenerà in vita Quindi è tipo immortale Questa candela In pratica però La peculiarità più anomala E che Eh si è questa che è Eterna Infatti lo dice dal nome Candela Eterna Ma non è solo questo È il fatto che Praticamente Questa Questo SCP Se noi Come dire Se noi veniamo In contatto Ehm Bruciamo Ma bruciamo In eterno Ok Quindi moriamo Cioè abbiamo molte possibilità Di morti Di morire Intanto Ehm Di norma Cioè Questa qua E la cella Qua c'è l'SCP Infatti E Niente Quindi raga Diciamo che è pericolo Che Vabbè avete visto che è safe Però non è Molto Da quel che so Eccola La candela Lo vedo Ok ragazzi Oggi Adesso siamo Nella sua area di contenimento Ehm Questa vabbè La cella degli eyeball Ed eccola qua È una candela Sembra una torce Raga No Diciamo No No Non sembra per nulla Diciamo che è simile È una torcia È un fiore Ehm Però tipo che c'è uno stelo E mette anche delle particelle di fumo Come La torcia Vedete E mette solo le particelle Ecco Questa E mette E mette delle particelle Non Non si infiamma Però vabbè Allora adesso proviamo a toccare Cioè Vedo che qua c'è della terra Non so a cosa serva Credo a nulla Però vabbè Ehm Tocchiamo Non fa niente raga Non Non fa niente Mi sembra No Non fa nulla E allora proviamo A camminarci sopra Che dite Aia Ho un effetto Raga Ho winter Se ci cammino sopra E prendo danno Vedete raga Ma Cioè raga Se ci cammino so Dai raga ma che Cioè raga Se cammino sopra Mi da winter Invece se sto Però no Mi dovrebbe infiammare Raga Non Non capisco il senso Della cosa Adesso provo a spaccarlo A fare i suoni Rosa Rosa del winter E' una rosa Del winter Non la posso Piazzare Serve Qua Cioè raga Ma che cringe Cioè dai Ma che Cioè se stiamo sopra Ci da winter Però io dovrei Bruciare in Etno Non capisco Vabbè Credo Si facce da portare Cioè basta Ma se io spacco E faccio qua Ah Posso Piazzarla Solo sulla terra E Adesso Non Adesso ci rimane Solo una cosa Da fare Cioè vedere Che cosa succede Se moriamo Spacco un po' Questi blocchi Così Lo porto Lo provo a ricostruire Nel mio laboratorio Che questo blocco Non l'ho mai visto Questa Cioè forse L'ho visto Ma Forse Che cosa sono Ah sono delle botte Di quercia Va bene E Niente Adesso possiamo Tornare a casa E vedere Meglio cosa può fare Qui Ci vediamo fra poco Ok ragazzi Sono tornato Adesso Vediamo Proviamo a vedere Cosa succede Se moriamo Quindi Ci vorrà Bastato L'effetto Sparisce Mi sa Raga Che ci vorrà Molto Tempo Vabbè Noi ovviamente C'è Raga L'effetto Se ne va Si sa Che questa zona Lagga E si raga La gas Sta zona Allora Andiamoci un po' Andiamo tipo Dove sta L'SCP Del buco Il 1437 Si era Il 14 Tipo qua Tipo qua Piazziamo La rosa E No No Ecco ho detto Che potevamo andare Nella partaglia Ma C'è Orribile Ecco Andiamo Qua Che c'è L'SCP Eccolo là Quella è la sua cella Del buco Piazzato Ecco Vediamo un po' Ecco Qua funziona Sto prendendo Molto danno Fa molto male E Adesso Niente Vediamo cosa fa Dopo lo recupero subito E Ecco Sono morto E Niente E' appassito Comune E' appassito Vabbè Niente ragazzi Questo era l'SCP Di oggi Adesso devo correre A recuperarlo E Dopo Me lo porterò Alla La di che Vabbè Niente Anche oggi Salta Devo dire che l'SCP Di oggi Mi aspettavo un po' Di più Però vabbè Oggi Ha voluto questo Eccola La Che poi c'è Veramente Sembra una candela Non sembra una rosa Del Wither Vabbè Rosa Del Wither Non so perché Si chiami Rosa del Wither Però Se l'SCP Ha voluto Che si chiamasse Rosa del Wither Io non sono Nessun Per giudicare Quindi Niente Lasciamo che si chiamano Rosa del Wither Intanto I tubi sono Strani E vabbè Niente ragazzi Quindi Io comunque Ragazzi Per questo video E' tutto Lasciate un bel like Iscrivetevi E niente Se volete Un prossimo video Vabbè Retro 16 E' tutto Ciao 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 Addio Quante volte ho detto Ciao Ciao Ciao